La bagarre, anzi la bangar, legata alle turbulenze del sistema bancario non è ancora finita. Scopriamo cosa bolli in pentola e come reagire in questo particolarissimo contesto di mercato. Ben trovati, io sono Giacomo e sono qua ogni venerdì a offrirti una cabina di regia complessiva e ben strutturata per darti un punto di vista diverso sui tuoi investimenti. E prima di procedere naturalmente ti ricordo di iscriverti al mio canale, siamo arrivati più o meno a 2 su 3 che siete iscritti, ma 1 su 3 ancora non lo è, fa anche rima, quindi se volete ricevere tutti gli aggiornamenti mi raccomando iscrivetevi a questo canale e visitate il sito segretibancari.com per scoprire i servizi per investire che offre la nostra azienda, per investire diversamente e ottenere risultati differenti. Da dove parte il tema delle banche? Lo sappiamo, il fatto che recentemente ci sono state altre turbulenze in America su banche regionali. Allora dov'è il problema? Il problema sta nel fatto che le banche si distinguono in due grandi categorie a livello di vigilanza. Da un lato abbiamo le banche sistemiche, cioè quelle molto grandi, che sono vigilate a livello centrale. In Europa dalla BCE, in America direttamente dalla Fed. E poi ci sono delle banche piccole che per questioni di, diciamo, economia di vigilanza non vengono vigilate in maniera attenta. Passano un po' in secondo piano, sono le banche appunto regionali. Voi pensate in Italia, per fare un esempio, alle banche di credito cooperativo, quelle che una volta erano le casse rurali e artigiane. Quindi ha realtà naturalmente piccoline, che però sono importanti perché, l'abbiamo detto e tante volte, il sistema bancario, in buona sostanza, si regge sulla fiducia che il popolo dei clienti gli attribuisce. Se un granello di sabbia inceppa anche uno dei più piccoli di questi ingranaggi, cioè una piccola banca regionale, tutto rischia poi di andare un po' a carte 48. E in tutto questo cosa succede? Che c'è un peso importante anche della speculazione. Voi pensate che negli ultimi mesi, le ultime settimane, sono esplose gli acquisti di opzioni, quindi di strumenti finanziari derivati, sulle banche regionali americane. Per esempio, sulla Pacific West siamo passati da praticamente zero contratti a 25.000 contratti in acquisto di opzioni put, cioè di persone tipicamente il cosiddetto, lasciatemi dire, pubblico retail, che commetteva sul fallimento della banca. E questa è metà della torta. Poi c'è l'altra metà, che è rappresentata da persone che invece hanno comperato un'opzione rialzista, quindi che hanno letteralmente scommesso sul rialzo delle banche, comprando un'opzione call su un ETF delle banche. E anche qua il numero è impressionante, perché siamo passati praticamente da poche decine di contratti a 45.000 contratti. Quindi vedete come il ruolo della speculazione è diventato veramente molto importante, perché c'è tutto un sottobosco di forum, di posti virtuali in cui le persone si scambiano le proprie idee e in base a queste agiscono sul mercato, creando il cosiddetto parco buoi. Tutti fanno la stessa cosa, tutti rischiano di bruciarsi. Voi pensate che, secondo uno studio fatto nel 2021, il peso degli investitori al dettaglio, quindi piccoli, sul totale degli scambi azionari in America, prima della pandemia era al 10%, poi raddoppiato siamo arrivati al 20%, a gennaio 2021 siamo arrivati al 26%. Quindi questa massa di persone che si trovano anche in forum come Wall Street Betting e roba del genere, o su siti insomma simili, rischia di fare esplodere la volatilità. Pensate al caso GameStop, per esempio, no? Cioè persone che singolarmente non hanno potere, se aggregati in maniera non coordinata, rischiano di sconquassare i mercati finanziari, quindi di andare in qualche modo a aumentare la volatilità complessiva. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è un detonatore importante, che è l'intelligenza artificiale. Il fatto che siamo tutti connessi, che non ci sono più i borsini di quando ero ragazzo io, per cui i vecchietti si trovavano, vecchietti più o meno, insomma, le persone, non voglio offendere nessuno, davanti a questi totem delle banche e guardavano le quotazioni, beh, li dovevano andare in un posto fisico per farlo. Oggi siamo interconnessi in una rete globale e voi capite che la via d'uscita da questo è ragionare in modo diverso, fare delle cose differenti rispetto alla massa, che vi dirò, vi racconterò in questo stesso contenuto poco più avanti. Però vorrei racchiamare la vostra attenzione su come i mercati finanziari siano destinati nel tempo a essere molto più instabili, perché l'innesco, che potrebbe essere anche un fatto di cronaca abbastanza banale, rischia di fare scoppiare un incendio di proporzioni incredibili. Le banche restano il sorvegliato speciale, anche perché in Europa c'è un altro aspetto importante che riguarda la vigilanza, cioè la Corte dei Conti europea che è il vigilante della vigilante, ovvero quell'organismo che controlla la BCE, ha bacchettato la stessa BCE dicendo che non hai fatto bene il tuo lavoro, cioè non sei stata sufficientemente penetrante con i tuoi poteri di vigilanza. Ha esaminato un campione di 10 banche su 110 vigilate, notando delle carenze in termini appunto di controllo, e la cosa fa molto strano perché la BCE, secondo gli addetti lavori, è una delle banche migliori al mondo per la qualità della vigilanza. E allora la risposta banale potrebbe essere obblighiamo la BCE a controllare meglio, ma questo non è detto che funzioni, perché? Beh intanto la BCE ha il suo, tra virgolette, sporco lavoro l'ha fatto, perché i crediti deteriorati in capo al sistema bancario sono passati negli ultimi otto anni da 1.000 miliardi di euro a 350, quindi rappresentano oggi solo più il 2% del totale dei crediti. Ma la cosa un po' insidiosa è che un inasprimento delle regole della vigilanza rischia di creare ulteriori instabilità al sistema finanziario. perché? Perché se la BCE in qualche modo limita l'espansione di credito rischia di creare un credit crunch, cioè rischia di creare un inasprimento delle condizioni in base alle quali le banche prestano i soldi alle famiglie, alle imprese e quindi creare un rallentamento dell'economia. Il tutto mentre la politica monetaria è già restrittiva e mentre l'inflazione ha già danneggiato una parte di domanda, perché non ricordiamoci sempre che l'inflazione, come ha detto un banchiere centrale, se non ricordo male quello della banca centrale olandese, è una tassa ingiusta perché colpisce soprattutto chi ha un reddito più basso, perché ovviamente i prezzi salgono e di conseguenza le persone hanno meno disponibilità finanziarie per comprare le cose. Quindi una restrizione del credito derivante da una vigilanza più attenta rischia di essere controproducente. E poi c'è un altro aspetto, che alzare il CET1 ratio, cioè uno degli indicatori di affidabilità di una banca, in buona sostanza il rapporto fra il capitale proprio e il volume di crediti erogato, che oggi è intorno al 15-10% in media europea, rischia di far sì che le persone che hanno bisogno di soldi, non potendo più rivolgersi al sistema bancario che chiude i rubinetti, vanno da altre parti. Quindi si va ad alimentare quel fenomeno detto dello shadow banking, ovvero di un sistema bancario ombra, formato da che cosa? Dal peer-to-peer, dal social lending, da tutte queste cose qui, che possono essere sicuramente interessanti, ma che vanno a inficiare, se vogliamo, l'efficienza allocativa di mercati finanziari e, in ultima analisi, a creare ulteriore instabilità nel sistema. Ecco perché siamo partiti in questa puntata del nostro podcast, per cui vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuta, naturalmente, e di condividerlo con i vostri amici, si parlava di Bangar, perché la bagarre delle banche non è ancora finita, ma la cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è che le banche sono uno degli n o ennesimi, se volete, detonatori, di crisi finanziarie che comunque potranno ancora esserci in giro per il mondo. Noi dobbiamo imparare a convivere con una elevata instabilità e soprattutto con delle variazioni selvagge, per cui i mercati finanziari per un certo periodo sono tranquilli e poi d'improvviso la volatilità va ad esplodere. E allora qual è il punto di vista diverso? Come possiamo tradurre tutto questo in pratica? Beh, ci sono alcune regole fondamentali. Anzitutto teniamo d'occhio le banche, ma non nel senso che pensate voi, cioè io devo scappare dalle banche. Al contrario, le banche oggi potrebbero essere un settore interessante in cui investire. Ovviamente fate attenzione ad un aspetto importante, che le banche sono un settore congiunturale. Mi è capitato, nelle persone che ci hanno contattato per capire un po' come possiamo aiutarli con i servizi di consulenza indipendente, di analizzare i loro portafogli e di notare il classico portafoglio squilibrato su titoli ciclici, tra cui ci sono anche tecnologici e fanno anche parte le banche. Questo cosa implica? Che un portafoglio costruito così è un portafoglio che performa molto bene se l'economia sale, ma se l'economia rallenta non cresce più quel portafoglio destinato a schiantarsi, perché anche se è apparentemente diversificato con tanti strumenti finanziari, la verità è che quel portafoglio risponde a una logica economica precisa che è l'espansione. Quindi se pensate di comprare le banche, tenete presente che le banche sono cicliche, per cui se avete già un portafoglio che è molto esposto alla crescita e rischia di essere danneggiato in caso di recessione economica forte, le banche non andate a inserirle. Il secondo aspetto è mantenere la diversificazione. Un portafoglio va creato non in base a delle previsioni, perché le previsioni sono sbagliate nel 90% dei casi, ma in base a una diversificazione corretta, a quella che noi chiamiamo cabina di regia. Cioè il portafoglio deve essere costruito in modo tale da essere come l'autoscontro, avere un cordolo di gomma attorno, che pari colpi a seconda di dove arrivano. Perché noi dobbiamo fronteggiare un ambiente economico più ostile. Quindi se pensate che le banche siano un'opportunità interessante per investire oggi, inseritele in portafoglio. Però santo cielo, dateci piano, non andate a inserire un 20% di ETF sull'Eurostox banks, ok? Oppure su banche americane che sono ancora più speculative, fatelo per importi comunque piccoli e andate sempre a chiedervi se io inserisco questo strumento, come cambia l'assetto complessivo del portafoglio? Lo sto diversificando perché magari ho gli immobili che rispondono a un altro tipo di driver? Oppure sto esasperando il fatto che il mio portafoglio diventa un portafoglio prociclico e quindi se l'economia va male andrà male anche lui. E terzo aspetto, che è anche l'ultimo, è quello di andare controcorrente. Pensare diversamente e investire diversamente vuol dire fare le cose che non tutti fanno. Una di queste, abbiamo detto, la cabina di regia, ma soprattutto andate a cercare nel cestino di rifiuti. Oggi l'attenzione è su temi molto più caldi, quindi su per esempio l'intelligenza artificiale, la robotica, le smart cities e tutte queste cose qui voi cercate in altri posti e comperate quando gli altri vendono. Noi restiamo ancora moderatamente ottimisti per il 2023 su mercati azionari, ma crediamo che ci possa essere un po' di volatilità, anche perché storia ragazzi. Se voi guardate l'indice VIX, che è l'indice cosiddetto della paura, che misura la volatilità implicita delle opzioni sull'S&P 500, vedete che su valori molto bassi. Quindi la probabilità che si esca da questo range e che il VIX acceleri con un ribasso anche magari pungente dei mercati azionari c'è. Ecco allora perché vi dico state in campana, cioè agite controcorrente. Se non volete comprare le banche perché le ritenete troppo rischiose, ok, però seguite comunque i mercati, perché se i mercati azionari dovessero registrare delle flessioni importanti per un picco di volatilità, per l'innesco di cui vi parlavo prima, beh quello è sicuramente un momento ottimale per entrare o per incrementare le posizioni, mentre le altre persone andranno a scappare a vendere tutto. Gli altri vendono, noi compriamo a prezzi inferiori, perché restiamo ancora positivi sui mercati azionari. E poi ci sono anche dei segnali che ci dicono che potremmo essere abbastanza vicini, ad una buona salita dei mercati finanziari, che peraltro da inizio anno guadagnano un 7-10%, quindi chi dice le cose vanno male, naturalmente pensa secondo il mainstream e fa le cose che fanno tutti, ottenendo i risultati della media, in buona sostanza. Per questo è tutto, io vi aspetto sul sito segretibancari.com per offrirvi una consulenza gratuita per capire dove investire oggi, per darvi dei suggerimenti pratici one to one, che ovviamente qua non posso darvi, e a livello diciamo di video o di audio per chi ci ascolta su Spreaker, sulle varie piattaforme, su Spotify eccetera, dico tutti ci sentiamo e ci vediamo venerdì. Grazie per i like e per le condivisioni, buona settimana, buon fine settimana e buon investimento a tutti.